Motor Show 2012, Speed Day by Red Bull, siamo qui con una delle leggende dell'automobilismo mondiale, Carlos Sainz. Allora Carlos, cosa ne pensi di questo evento? Ti stai divertendo? Bene, sempre qua a Bologna, questa data è stata una delle date dell'anno dove i tifosi possono sfruttare delle condizioni, delle gare, delle macchine. Oggi penso a quello che piacciono le gare, è un dia divertente. Ieri è stata presentata la nuova Apollo WRC che hai contribuito allo sviluppo, hai provato al Rally Legend come apripista, cosa ne pensi di questa vettura e cosa ne pensi di questa generazione di World Rally Car? La generazione nuova di World Rally Car senza l'elettronica penso che è interessante, più interessante di quella con l'elettronica. Con quello che rispetta l'Apolo, per me penso che è una macchina che è andato bene, penso che c'è un bel potenziale e dobbiamo aspettare adesso per vedere come si inizia l'anno con a Montecarlo, dopo sulla neve a Svezia, la terra, comunque la prima gara a Montecarlo è più una gara piloti che non tanto macchina. Ok, un'ultima battuta, quali sono i tuoi programmi per il 2013? Niente, farei la Dakar con l'equipo del team di Nasera Latiglia, con un buggy, un buggy fatto in America, comunque un'avventura che abbiamo iniziato però che veramente non abbiamo fatto tanta strada, speriamo di andare lontano e fare bene.